La Mezzia, il quotidiano apre con le primarie, Speranza ha detto sì, il candidato sindaco uscirà fra l'uscente Gabriele Reillo e Chiara Macri, per evitare la frantumazione del centrosinistro dichiaro la mia disponibilità a partecipare. Posizione alquanto leale del sindaco Speranza, qui si evita la frantumazione del centrosinistro quindi si mette in discussione, la Reillo, Macri e Speranza, vedremo allora chi la spunterà le primarie, certamente da come si sente in città, Speranza, per il centrosinistro è in pole position con i sondaggi per le primarie, un sindaco uscente, una persona molto leale, molto onesta, questo è il mio punto di vista, credo che la spunterà lui, ma non voglio certamente farlo al cielo del Malacugio sia per il giudice Reillo che la dottoressa Macri. La città non ha bisogno di liste civiche, dai partiti arriva questo segnale, ulteriore atto di generosità da parte del sindaco Speranza. Vediamo nella cronica di Battaglio Basso nella pagina di Lameazzo del Quotidiano, incendio fallito a una penetteria, le fiamme stavano per propagarsi da una finestra, trovata la tanica, la finestra della penetteria dove è stato applicato il fuoco, probabilmente c'è la mano del racket dietro un dettato incendio in località adibito a penetteria in via Colelli, i malviventi hanno applicato il fuoco agendo da una finestra esterna alle spalle dell'ingresso principale delle attività commerciali in via Virgilio, una traversa di via Colelli. Poi il caso, l'assessore Iovane è incompatibile, occorre sonoramente smentire Gianni Speranza già che appare chiaro che quanto ipotizzato a carico del suo assessore all'urbanistica riguardi esclusivamente attività che hanno strette e precise attinenze con il ruolo di assessore che Iovane sta esercitando con gravi profili di incompatibilità. Lo afferma in una nota il candidato a sindaco di La Mesa Terme per il Movimento Civico Diritto al Futuro, l'imprenditore Roberto Molinari.